Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Goccia fredda che si allontana e tempo in miglioramento sull'Italia. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 15 ottobre. Nuolosità irregolare al mattino al sud con residui piogge possibili soprattutto su Puglia e Sicilia settentrionale. Sereno poco nuoloso altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili su Puglia e Calabria. Cieli sereni o poco nuolosi sul resto della penisola. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma con addensamenti in medio alto in transito specie al centro nord. Temperature minime in ulteriore calo e massime in generale rialzo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni meteo aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.